Ho iniziato a fare atletica a 5 anni, nel mio caso l'impianto sportivo ha un peso particolare perché l'atletica era nel mio destino, infatti sono la figlia del custode del campo di atletica di Vilda Gentile e sono andata a vivere in un campo di atletica a 3 anni e da lì poi ci ho vissuto per tanti anni per entrare in nazionale e iniziare a viaggiare quindi l'impianto sportivo nel quale ho iniziato a praticare atletica ha ovviamente una valenza particolare per me perché molti dicono che il campo poi diventa la tua casa ma la mia casa poi è diventato il mio campo quindi questa è la mia storia.